Molto presto arriverà una generazione di donne e uomini che vivranno in un mondo pieno di rifiuti. Ogni giorno vengono gettate via più di 19 milioni di capsule. Ci vorrà più di un secolo per farle scomparire. Le capsule Novell Residuo Zero scompaiono in 12 settimane. Capsule compostabili Novell. Il piacere responsabile.